Stiamo preparando la 66esima mostra internazionale d'arte cinematografica. Müller ha fatto una scelta straordinaria di film, 90% dei quali sono prime mondiali. La mostra si presenta, si annuncia come una delle più importanti degli ultimi anni. Noi per il nostro conto abbiamo aggiunto una serie di interventi che la vogliono qualificare dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista del confort, dal punto di vista delle condizioni operative per chi vi deve partecipare. Sappiamo che a partire da quest'anno abbiamo una zona segregata a favore del cantiere per la costruzione del nuovo palazzo, che sarà pronto nel 2011. Abbiamo nel frattempo realizzato una nuova logistica della mostra, tutto rovesciato, si entrerà dalla Darsena. Abbiamo rinominato la sala che aveva un nome non bellissimo come Palalido, Sala Darsena. Realizzeremo una nuova sala da 450 posti, aumentando così i posti a disposizione del pubblico, in particolare per essere utilizzata dagli autori e dei critici per le loro importanti iniziative. molte cose sono pronte per poter accogliere i giovani, per poter risolvere alcuni problemi che sono storici della mostra, quello delle condizioni di vita in mostra la sera, vogliamo che la gente resti fino alle 2 di notte, con i ristoranti aperti e li realizzeremo noi. E contemporaneamente abbiamo raggiunto una serie di accordi con Lido. Anche qui si tratta di un antico nodo, quello del rapporto tra la mostra e il Lido. Il Lido si presenta in condizioni rinnovate, con grandi ambizioni nuove di riqualificazione di tutta l'isola, per un futuro diverso di balneazione e di turismo, per un turismo diverso. Sono in arrivo grossi investimenti, lo spirito delle persone è tutto proteso ad innovare e la mostra si presenterà anche in questo senso diversa per il rapporto con lo spazio circostante e con la comunità circostante. Offriremo persino agli accreditati la possibilità di una balneazione gratuita. Il tutto con l'intenzione di creare opportunità per chi vi deve lavorare come giornalisti e critici, che siano adeguate all'intensità di lavoro cui saranno sottoposti, visto anche il numero dei film che saranno presentati, che sarà piuttosto elevato, e agli spettatori per recuperare giovani, ai quali offriamo in particolare un numero consistente di camere in Venezia ad una tariffa molto ridotta, circa 20-30 euro per notte, letti che ci sono messi a disposizione da lente per il studentesco universitario. Anche questa è una collaborazione con la realtà locale tutta protesa a far sì che la mostra sia quel grande evento che tutti ci aspettiamo.